Taglieremo questa parte. Voglio vedere, quando fai le figuracce a te non le taglio in sé. Faccio fatica perché Max è di là e la telecamera è di qua. Ma ce n'è anche una di qua però. E ce n'è anche una di qua che non ho mai guardato. Buongiorno ragazzi, siamo giunti alla terza settimana della mezza maratona. Maratona Primaverile. Anche oggi con Andrea Soffientini parleremo di qual è il programma settimanale. Quanto manca? Manca poco perché se ci pensate la Roma Ostia è già tra un mese e la Maratona di Milano è tra due mesi. Quindi non abbiamo tantissimo tempo. Dal lato mio è stata una settimana molto impegnativa. Sono stato a Bruxelles, Anversa, Madrid e a Milano e alla fine non sono riuscito ad allenarmi. Ieri siamo andati a Garbagnate da Andrea Soffientini al campo di atletica. L'abbiamo intervistato. Ci siamo dimenticati di fargli complimenti per la bellissima prestazione alla Corriere di San Gimignano. Ne parlerà durante l'intervista. Lasciamo a lui la parola per il programma della settimana. Ciao Andrea, buongiorno. Siamo giunti alla terza settimana della preparazione della mezza Maratona e Maratona. Cosa ci suggerisci oggi per la mezza Maratona? Allora, continuiamo con il lavoro ritmi mezza e recuperi blandi. Facciamo 15 chilometri suddivisi in questa maniera. Due chilometri a ritmo mezza Maratona e mille metri di recupero in 30 secondi più lenti. Il mercoledì facciamo questo lavoro. Il venerdì facciamo delle variazioni. Un minuto, un minuto. Per cambiare un pochino facciamo un minuto forte, un minuto lento in suplesse. Mentre la domenica ci buttiamo 20-25 chilometri che non fanno mai male. E come differenzeresti la preparazione per gli amatori rispetto invece ai principianti? Allora, farei un po' più di differenza sul Fartlek del venerdì. Farei un 40-50 minuti per i principianti e invece ci aggiungerei una ventina di minuti per gli amatori. E invece Andrea, per chi pensa di partecipare alla Maratona di Milano o a quella di Roma, che cosa suggeriresti per la prossima settimana? Allora, la settimana prima abbiamo fatto dei 4.000. Mi hanno chiesto il recupero, erano 1.000 metri 30 secondi più lento. Oggi aumentiamo, facciamo 3 volte 5.000 a ritmo gara con 1.000 metri di recupero 30 secondi più lenti del ritmo Maratona. Il venerdì facciamo delle variazioni, anche qui 2 minuti poco più forti del ritmo Maratona e 2 minuti di recupero poco più lenti del ritmo Maratona. Qua c'è un grosso problema tra gli amatori e i principianti. Un amatore gira quasi a ritmo del medio la Maratona, mentre un principiante non ce la fa. Girerà a un ritmo di un lento svelto. Quindi questi lavori li potrebbero fare davvero sensazione, cercando di tenere la parte svelta un pochino più svelta. Quindi verrà più o meno a ritmo mezza Maratona un po' più lento per un principiante. Mentre la domenica teniamo un 25, meglio un 28 chilometri, che incominciamo a fare dei lunghi, seri e importanti per la Maratona. I ritmi i quali teniamo molto svelti, direi un 20 secondi dal ritmo Maratona. Poi dipende anche da come siamo stanchi dopo aver caricato queste mercoledì e venerdì con questi lavori. Andrea, una delle domande che ci hanno posto è stata, ma il ritmo è davvero così importante? Dipende. Nel lento non è importante, anzi è importante farlo lento. Nelle ripetute è meglio tirar fuori sempre qualcosa di più. Quindi rispettiamo il ritmo Maratona. Se vogliamo andare due o tre secondi più forte lo facciamo sulle ripetute con recupero attivo. Vuol dire che stiamo bene, ma se stiamo facendo fatica a tenere il ritmo Maratona forse è meglio rallentare un attimino. Però anche valutarlo per la gara, perché se penso di fare 4 al chilometro in Maratona e non riesco a tenerlo nelle ripetute, forse è meglio che prenda un tempo un po' più conservativo per la gara. E come al solito, oramai non dovresti essere sorpreso, quale consiglio potresti dare agli amatori per questa settimana? Guarda, direi di non esagerare sui ritmi, però di cercare di tenere sui recuperi attivi un buon ritmo. Non esageriamo sui ritmi forti, ma cerchiamo di tenere i ritmi del lento abbastanza svelti. Quindi se sono 20-30 secondi da ritmo Maratona, non è che siamo morti, allora le facciamo 40-50 secondi più lento. Se no, non è buono. Non è buono. E l'ultima cosa, prima di concludere la settimana. Ho saputo che hai partecipato a una gara importantissima e hai fatto davvero bene. Ce la potresti raccontare velocemente? Ho fatto la corrida di San Gimignano, sto caricando come un dannato in questo periodo, cosa che non consiglio a chi non è già bello formato. Ho fatto un buon tempo, ho girato 3-0-4 al 1000 per 13,3 km e sono davvero felice. Grazie Andrea. Infine l'ultima domanda, veramente l'ultima. Mi hanno chiesto, ma tu sei il mio allenatore? No, diciamo che segui qualche mio consiglio, però no, ufficialmente no. Va bene, grazie Andrea, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao, vi farò domanda delle salite. Ciao a tutti, spero che il programma sia chiaro. Se vi siete persi le puntate precedenti, sono nella playlist qua sopra. Potete assolutamente andarle a cercare. Se volete fare dei commenti, ovviamente sempre qua sotto. Se non volete perdere nessuna delle puntate precedenti, iscrivetevi al canale, anche perché ci sono grandissime novità. La prossima settimana parleremo di diverse scarpe, tra cui questa piccola bestia che abbiamo recensito con Andrea Soffientini, sempre al campo di Garbagnate. Ci vediamo presto e buone corse. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.